Avete mai sentito parlare del review bombing? Ve lo spiego, anzi ve lo racconto molto semplicemente. Avrete letto dei casi che in questi giorni hanno fatto molto discutere. Parlando di caro prezzi, sono sbucati fuori scontrini di ristoranti e bar che hanno addebitato cose strampalate, tipo un piattino in più o il taglio a metà di un toast. Beh, uno di questi, un'osteria di finale Ligure, dopo che la vicenda è stata diffusa sui social, ha ricevuto circa 200 recensioni con una sola stella in 24 ore. Questo è review bombing, ovvero quando gli utenti arrivano in massa e per protesta, quindi non necessariamente per insoddisfazione, penalizzano un servizio o un prodotto recensendolo negativamente e quindi affossando il suo punteggio medio. È per questo che una buona strategia di comunicazione non punta solo a comunicare in modo proattivo, ma cura anche i messaggi in arrivo dall'esterno in modo da prevenire qualsiasi tipo di shitstorm. Per fare un buon lavoro bisogna mettersi l'anima in pace e rendersi conto che quello che succede online non è finto, ma ha delle ripercussioni spesso molto importanti anche sulle attività offline. Se non ci credete, andate a fare due chiacchiere con l'osteria di finale Ligure. Ora è voi a vendere i piattini per recuperare il danno.